Margit, zia di Yannick Sinner, è scomparsa sabato all'età di 56 anni dopo una lunga malattia. La triste notizia è stata resa nota dalla famiglia con un necrologio. Margit, affettuosamente chiamata zia Meggi, era la sorella della madre del tennista e una figura molto importante nella vita del campione altotesino. Yannick le aveva dedicato la vittoria del US Open lo scorso 8 settembre, pronunciando parole commosse che lasciavano intuire la gravità della situazione. Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene, non so quanto ancora sarà nella mia vita. Sinner aveva un legame speciale con la zia che lo aveva seguito da bambino nelle sue prime esperienze sportive, accompagnandolo spesso alle gare di sci. Nonostante il successo e la fama, Yannick ha sempre mantenuto forti legami con la sua famiglia e la sua terra e la perdita di zia Meggi rappresenta per lui un dolore profondo. Le sue radici restano solide e legate agli affetti più cari di cui la zia era una parte fondamentale. Le sue radici restano solide e legate agli affetti più cari di cui la zia è una parte fondamentale. La prima parte?", Grazie a tutti.